Il centrodestra sarà unito alle elezioni regionali e comunali che si terranno tra qualche settimana. Si è trovata la sintesi e sono molto contento che Stefano Caldoro sia il candidato, esponente di Forza Italia, per il centrodestra in Campania, come sarà affitto il candidato in Puglia per il centrodestra, una persona che ha condotto insieme a tutti noi mille battaglie, ci sarà Quaroni nelle Marche e la Ceccardi in Toscana. Il centrodestra sarà unito sul territorio e le sinistre e i grillini perderanno. I grillini nelle regioni dimostreranno una volta di più la loro irrilevanza dopo i danni che hanno fatto con il governo nazionale, in Parlamento, con i vari personaggi alla Buona Fede, al Grillo stesso che guida questo movimento, alla Taverna e quant'altro. Noi uniti vinceremo e avremo a questo punto quasi tre quarti delle regioni, perché anche in Liguria, con Toti e Zaia ricandidati, vincerà il centrodestra e dobbiamo presto tornare al governo nazionale per cacciare chi non dà i soldi ai lavoratori. Perché voglio ricordare sulla Cassa Integrazione Tridico, Coniglio che scappi, ho ragione io, oggi sulla Repubblica, il Presidente del Consiglio di Indirizzo dell'Inps ha detto un milione di persone almeno non pagate. Lo dice il Consiglio di Indirizzo, quello che deve vigilare. E perché Tridico non si rimette insieme alla Catalfo di fronte a questo sconcio? Perché non interviene il signor Conte? Perché non interviene il Presidente della Repubblica? Intanto andiamoli a battere nelle regioni. Un saluto a tutti i candidati e un abbraccio a Stefano Caldoro.